Oh, stai già morendo? Incredibile! Bene, è ora che mi lasci le carte, eh? Ti lascio anche i miei debiti. Pesa, eh? Pesa. Yugi a tutti i violanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, ragazzi, siamo qui con un video in collaborazione con Jaxor. Ovviamente, ragazzi, il miglior sponsor per l'acquisto di prodotto coreano di Yugi. Ragazzi, se volete ovviamente comprare qualcosa, trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Ma detto questo, cosa andremo a fare oggi? Ovviamente, insieme ad Erens, ci andremo ad aprire un bel box di Prismatic Art Collection. Let's go! No, al contrario, Prismatic Art Collection. In più, ragazzi, martedì, in live, ci andremo ad aprire tutti i miei restanti pacchetti coreani. Scusami. Ma io t'ammazzo! Comunque, ci andremo ad aprire tutti i miei restanti pacchetti coreani alla ricerca di... Boh, ragazzi, il Golem in Reggio Antico Ultimate, il Paladino da MFC, la Maga Nera da MFC, abbiamo roba di labirinto dell'incubo, la Fenice Ultimate da Fett. Quindi, ragazzi, vi aspetto perché sarà una roba incredibile. In più, ovviamente, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è roba interessante, ragazzi, se ne può parlare sempre. Perché tiro anche le comuni. Detto questo, andiamoci a vedere cosa possiamo trovare all'interno del box e andiamo a sbustare. Bene, Renz, allora, andiamoci a vedere cosa possiamo trovare. A parte, vabbè, una topa maggiorenne che, ovviamente, non si disdegna mai, soprattutto perché... Questo è coreano? Questo è coreano? Beh, insomma, ma... Interessante da qua. Interessante. Questa? Questa... Questa è minorenne, nel senso, non mi interessa. Un fantasma. Sì, sì, sì. Ah, anche... Vedo anche i kagari, molto interessante. Poi, vabbè, classi cappini che piacciono sempre a tutti. Ma io voglio il Curivo Starlight. Il Curivo Starlight è mio. Già deciso, sarà mio. E niente. Per il resto, vabbè, lo andremo a scoprire dopo, ragazzi, perché, sinceramente, voglio spacchettare. Tocca. Bene, detto questo, partiamo. Allora, i pacchetti, ragazzi, sono 14 e non 15. Perché la registrazione è andata a puttane. E uno dei pacchetti è andato. Ma va bene, va bene. Non c'era niente. Quindi, andiamo con il primo. Vediamo cosa possiamo trovare. Teoricamente, ovviamente, si può trovare anche il drago nero alternativare. Che fai? Citazione a un nostro grande follower. No! Non era nessuna citazione! Non gli daremo il diritto di entrare all'interno del canale senza pagare, eh? Io sono sempre da parte degli iscritti. Sono sempre con voi, ragazzi. Tu stai col popolo. Tu stai col popolo. Io sto con lo Stato. Hai schifo. Questa l'hanno dita tu. Uh, questa qui. Questa, ragazzi. Pezzo di merda. Costa un boato da noi, Secret. Perché usciva... Uh, bello Stratos! È uno Stratos super! C'è sta, onesto. È da pack. Pack. Bello! Fichissimo, ragazzi! Infinity, alternativata. Infinato, infinato, infinato. Eh, sì. Buona. Andiamo col secondo. Siamo partiti bene. Non mi dispiace. Vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro di figo, ragazzi, perché... Perché sì. Uh, bene. Abbiamo l'infinity per poveri, ovviamente. Tipo Erens. Erens ha già detto che mi vuole lasciare i suoi debiti, quindi... Questo è per lui. Zitto! 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 Tu non hai il diritto di parlare. Ho già detto che... Io non lo diti cosa? Tu non hai il diritto in generale. Cosa? Ma vai a cagare. Andiamo avanti. Questi pacchetti, vai. Droll. Oh, Droll and Cockbird. Sì. Questo è un drol con il cazzo enorme. Poi, infatti, c'è pure il piccione lì. Guarda. Piccione. Guarda. C'è il piccione... Cioè, palesemente il piccione bianco. Beh, per forza. Oh, cos'è? E dietro? Su cosa scommetti? Tanto abbiamo visto il nome. Sappiamo già che... È palesemente lei, nel senso... Lei chi? Mechaba invocata. Per un secondo ci ho pensato. E ma non era. No, no. Però è Cyberdrago Gemello. Oscuro. Con l'alternative art. No, non è alternative art. È alternative art. No, non è. La sua prima print è nell'edizione speciale di Strike of Neos. E c'era questa insieme a un'altra promo. Non mi ricordo quale. Non esiste un'altra... È l'alternative art del Cyberdrago finale. Ma questo è... La prima che hanno fatto. Sì, ma questo è lo scuro. Cioè, non è la stessa cosa. Dai, su. Sì, ok. Quando usa Zain incazzato nero, va bene. Però è l'alternative art. Quando l'alternative art non esisteva. Sì, è uscito addirittura il Cyberdrago. Dai, dai. Dai, questa prismatica art. Terraformare è super. Onesto. Vido hardcore, ecco, com'era quella roba. Apollusa. Apollusa o mascherena. Apollusa non è vento. Fammi controllare un attimo. Sì. Questo... Questo è palesemente il link luce degli ammalatrici. Il Codestalker. No! Airworld Dragon. Bello, però, cazzo. Così. Sì, è carino, dai. Non è alternative art, ma... Vabbè, vabbè, dai. Su. Su. Però hai trovato tutto alternative. Il Cyberdrago infinito, il Cyberdrago finale. Hai ragione. Hai ragione. Dov'è la mia alternative, cazzo? Dai, dai, che adesso esce Charizard. Ecco il mio Charizard. Le vianire sotto... Oh, alternative art! Vedi, vedi, vedi? Alternative di... Fa schifo. Oh, no! È proprio l'Aleister. Sì, però l'Aleister versione normale è meglio. Sì, sono d'accordo. E poi abbiamo anche lui e lui. Planet Mining? Beh, che pacchetto. Dai, ci sta. Le vianire è... E ti ricorda un meta. Anti-meta con l'Aleister, in realtà. Ok, per quanto gira. Dal 2017 penso non si sa. Sai cosa servono queste carte? Esatto, a tagliare il sedano. Sì, proprio quello. Ragazzi, io con le carte ci taglio il sedano. Vabbè. No, dai! No, no! No! Ovviamente, ovviamente. No, 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 no. Dopo questo, ragazzi, si perde la collab con Jackstor. Per forza. Quindi, per forza... Dovete acquistare. Con Referral Link. Dopo questo mi denunciano. Denunciano. Mi denunciano e mi devono... Secondo me è peggio che mi devono la collab. Bello, la carta con i maghi neri. Ma io non ho mai capito. Sono fratello e sorella? O lui si chiama lei? Perché se lui si chiama lei, voglio essere il mago. Entrambi. Incesto definitivo. Come diceva, una canzone famosa di una parodia della Disney. C'è il figlio fratello del fabbro di città. Che uomo di cultura. A posto. Andiamo col prossimo. Cosa posso sperare qua? Qua voglio... Cioè, voglio una carta su cui posso segare. E non... Ovviamente lei non va bene. E Emergenza va bene? Oh mio Dio. Oh, beh. Che cosa stai facendo venire fuori? Baratto. Baratto. Oh. Red Ice Fusion. Una versione che non ha i brillantini sui lati. Beh. Non è vero Core? Non è vero Control Quality del 2015? Allora. Non è vero Scaldi Bucciati? Ce l'hai con Konami che fa le robe col Silvering? Eh? Non capisci niente. Konami è la migliore azienda di questo mondo, eh? Una volta ho aperto un pacchetto e c'era un cartel di pieni di... Utopia. Anti-utopia. Evocation. Oh! Niente. Sì, vabbè. Bella! Bella! È pronta. È messa lì, ragazzi. Sì, mamma mia. Chi ci vuoi segare sopra? Su quel. Non è comunque nel versione OCG. No, no. Anche nel version... Sì, no. Io ora voglio quella in moto, eh. Voglio quella in moto. Per forza. Starlight. Starlight, dai. 200 euro di carta. Guarda. Guardate come ve la tiro fuori. Allora. Voi tirate fuori. Il cazzo è sbattertelo in fronte. Se non stai zitto. E dai proprio di no. Allora, abbiamo la tour. Ma la tour è maggiorenne? Sì. Ah, lei è cervello. No! Questo esiste solo da Sofu. Da Sofu è bello. Alternativante. Fa spoccare. Fa spoccare. Sì, quella roba fa schifo. Ma com'è il Phantasmate? Sì. Eldritch invece è simpatico. Eldritch è una palese citazione a... A dio di... Di Giorgio. Di Giorgio. Cioè... È lui. È palese... Oh! Un polvere! Posso giocarlo in... Edison? Perché comprarlo da TOC raro costa troppo. Costa 5 euro, ragazzi. Dite no ai polveri rari da TOC. In italiano. Era seconda. No, Alternativart. Che... Alternativart, Alternativart. Dov'è? Dov'è la mia cazzo di mascherina? È di Cyber Dragonale. Ho visto Starlight? Potrebbe essere. Ho visto Starlight? No. Oh! Dragonero o Kiroshi. Non è Starlight o... Dov'è il Kuribo? Io me la prenderò con qualcuno. Jacksor! Dov'è il mio Kuribo? Dov'è il mio cazzo di Kuribo? Guarda, il numero di persone che ti invierò sarà pari al numero di Kuribi che troverò qua dentro, eh. E siamo già una. Hai visto uno uscito? Eh, non posso dirgli di no, eh. Lo stavo per dire, ma ti sei già... Kuribo alato come lo consideriamo? Guarda quanto è bello, con questi occhioni. Corami, quant'è che mi fai il peluche? Che secondo me poi fa una marea di soldi. Le tipe affrotte smettono di comprare Pikachu e si comprano Kuribo peluche. Ash? Oh! No! No, cazzo! Ho fesciato la Starlight! Che vita di merda! Che vita palesemente di merda! Io sto guardando questo bellissimo Yamata Dragon. Allora, a parte che è una topa insensata questa fogliatura. Da noi l'hanno fatta gold, ma che schifo! Cioè, mamma mia! Che fregna! Che fregna senza senso! Ragazzi! C'ha pure la coda! È un plus incredibile! È un plus incredibile la ragazza che si vuole mettere la coda. Vero, vero. Confermo. E Eren se c'è già passato. Ragazzi. Sì, sì. Ovviamente la coda me la mette voi. È ovvio. Scherza, sì, scherza, sì, scherza. Scherza, amici, la postale, eh? Nessuna ragazza e nessun gatto è stato maltrattato per questo video, eh? Niente. Il Cyberdrago Alternative Art. E tocca con l'ultimo, perché abbiamo finito i pacchi. Questo lo distruggo. Cioè, non c'è la Starlight. O è qua o non è qua. O non è garantita in ogni box. Non lo so. Siamo già a due cazzo di clienti. Uno. Bello, bello Teleport. Da noi quando è che fanno Teleport Secret, ragazzi? Noi abbiamo quella merda di versione ultra rara che fa spucca. C'è da L5CD. Hai ragione. LC5D, LC5D. Hai ragione. Io non capisco niente di questo gioco, ragazzi. Mi dispiace. Voi seguite un influencer che non ne capisce un cazzo. Eh, capita. C'è sicuramente a correggerti. Va bene, ci sta. E va bene, ragazzi. Il video finisce qua. Ci è andata bene. Peccato questa maledetta. Fa un culo. Poteva essere quarter. Ho flashato un attimo. Ho già visto 200 euro l'armi davanti. Vi rinnovo l'invito, ovviamente, ragazzi, ad acquistare da Jack Store. Perché non ha solo questo qui. Ha tutti i cazzo di set. In più ha anche roba interessante, tipo le sleeve. Le sleeve fighe. Tipo quelle dell'anime, ma sono rosse. Non so se ne hanno altri tipi. Voi andate a controllare. E ricordate che per supportare avete il referral link e il codice sconto. Altrimenti, ragazzi, non si risparmia. Eh, esatto. Ricordate. Detto questo, ragazzi, state mi easy. Lasciate like, ovviamente. Commentate se vi piacciono le opening coreane. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti. Eren, si è rimasto un pacchetto. Adesso tocca aprirlo. Subito. Vediamo. Ti immagini? La quarter sta qua. Oh, mago nero. È il quarter reale. Tiè, bello, pulito. Oh. Si apre così, si apre così. Sì. Sintonizzare, che non si vede. Cagari? Oh, è qua il quarter. È il quarter. C'era il quarter. Che cuglioni, non è quarter, è Starlight. È vero, c'hai ragione. Va bene. Ringrazio tutti quelli che sono arrivati alla fine.